siamo al blog room 21 room 21.it pronti per una nuova intervista con una persona un artista che insomma sono anni che devo intervistarti ci siamo visti sette anni fa mi sembra in una delle tue prime mostre a schio in realtà tu sei di bassano ed è con me eva di martino benvenuta a room 21 grazie allora eva tu sei un artista lavori nel campo della grafica ti sei formata in scuole d'arte licee artistici e però hai un gusto particolare adesso sovrapporremo nella nostra intervista alcune foto che fanno capire che cosa fai cioè non fai body art ma sei andata oltre e partendo però da un gusto quello del disegno dei cartoni giapponesi dei cosiddetti manga no assolutamente sì ricordo di aver cominciato a disegnare sin da piccolissima quindi in realtà disegno proprio da sempre poi nel corso delle scuole medie primi anni di scuole superiori ho scoperto i manga e di conseguenza ho adottato immediatamente lo stile che mi piaceva aveva aperto nuovi orizzonti e da lì in realtà poi ho scoperto proprio la cultura giapponese in tutte le sue sfaccettature e quindi anche in quella musicale e quindi ci sono tutta una serie di scelte estetiche anche che riguardano poi il fashion soprattutto tu dici quella musicale perché c'è una musica contemporanea diciamo rock giapponese che il j rock spiegaci un po perché da qui che poi sei partita assolutamente sì avendo sempre avuto interesse nella musica metal rock in generale ho scoperto appunto questa diciamo questo filone giapponese che si distingue moltissimo se non altro sia a livello di solo di sonorità che sono comunque diverse dalle nostre da quelle europee e americane ma sia soprattutto a livello di fashion di trucco quindi proprio di vivere questo aspetto mascherato per rappresentare forse proprio di più il concetto quindi la canzone il testo la musica anche l'estremità stessa c'è proprio il fatto di essere estremi rappresentato nella moda e nel modo di vestire facciamo un paio di nomi di questi gruppi che ascoltavi che ascolti ancora eh sì assolutamente sicuramente chi come me segue il genere conosce i Malice Miser che sono storici e chiunque li conosce ma sicuramente diciamo i The Gazette sono stati comunque quelli che mi hanno ispirato poi nel lungo termine ce ne sono mille altri però la la loro cultura in realtà parte da da tempi remoti nel senso già dal teatro Kabuki di cui io tra parentesi ho realizzato una mia versione cercando di rispettare il più possibile la loro cultura che so essere molto molto profonda e questo a me dei giapponesi piace molto c'è molta interiorità in quasi tutto e in questo teatro Kabuki questi uomini con queste fattezze bellissime truccati benissimo rappresentavano che sembrano donne esattamente rappresentavano delle donne e quindi questo j-rock attinto a piene mani da questa cultura Kabuki di teatro trasformando questi cantanti questi chitarristi questi bassisti in questi personaggi bellissimi con questi visi pallidi questi occhi grandissimi truccati e da lì io sono sicuramente partita da lì come concetto quindi questi capelli colorati questi trucchi pesanti eccetera per poi evolvere chiaramente evolvere da lì e cercare di trovare una mia strada allora c'è il gusto diciamo siamo nella cultura dark possiamo dirlo c'è il gusto del gotico possiamo dirlo e poi c'è tutta una serie di segni che tutti dipingi anche sul viso che hanno un loro significato oltre al fatto che poi ci sono anche i tatuaggi sì i tatuaggi sono qualcosa di decisamente più permanente rispetto a quello che è il semplice trucco però penso che arrivata nel senso io sono comunque vorrei lanciare un messaggio in realtà il tatuaggio va fatto nel momento in cui si è sicuri di quello che si vuole proprio perché è permanente quindi io personalmente lo sconsiglio in età troppo giovane infatti io ho aspettato diversi anni per arrivarci ero sicura sapevo cosa volevo anche perché comunque per quanto poco sono sempre visibili in qualsiasi parte del corpo lì si abbia in ogni caso sono visibili prima o poi quindi o io ho fatto una scelta e questa scelta appunto adesso la porto addosso non si non si vede ma ne ho uno sulla testa lo intravediamo allora in realtà veniamo anche alla tua quindi ti ringrazio per questo messaggio mi trovi pienamente d'accordo in realtà molto giovanile meglio non farsi i tatuaggi perché poi ci si pente allora veniamo alla tua poetica mi hai detto prima di iniziare questa intervista che in realtà tu sei un artista del dolore quasi ci sia una sorta di terapia nel fare arte no questo sappiamo diciamo filone poetico che esiste da tutto il novecento e anche forse precedentemente sicuramente assolutamente l'ho sempre mi sono sempre definito un artista del dolore perché comunque lo vivo è una cosa che ho sempre vissuto ho capito che nel momento in cui nella mia vita sono successe delle cose spiacevoli mi hanno dato in realtà ho convertito il dolore in energia come fosse benzina per il mio motore è stato in quel momento che sono stata capace di creare i miei personaggi più intensi quindi quelli che avevano sicuramente qualcosa da dire perché questa è un po' la differenza diciamo in quello che io faccio ogni personaggio ogni trucco non è semplicemente trucco non è quindi non sono semplicemente una tela ma sono una persona che prende vita un personaggio che prende vita e utilizza il trucco le trasformazioni i capelli vestiti per comunicare perché comunque si crea tutto un ambiente tutto un mondo la donna col turbante tu ora sei insomma truccata così vestita di nero con questo trucco pesante che cosa rappresenta la donna col turbante ed è guido quindi la vedova è nata circa tre anni fa in un momento della mia vita in cui l'amore soprattutto è stato causa di un sacco di dolore questo quindi proprio un percorso di dolore anche di vita vissuta perché comunque io non credevo di poter arrivare a determinate profondità per amore che di solito tutti concepiscono come una cosa molto positiva molto bella però la verità è che ci si può stare anche molto male e quindi lei è nata in realtà per aiutarmi ad uscire da questo momento di dolore estremo con questa sua estetica molto rigida però allo stesso tempo molto elegante mi ha aiutato a riscoprire eva come donna quindi il valore che una donna può avere non soltanto proprio come persona ma proprio anche come estetica e a stare proprio meglio con me stessa ad essere più forte ad affrontare le cose con un altro un altro modo ecco e poi in realtà ci siamo fuse io e la vedova e quindi adesso lei è diventata un po' più parte di Eva e io sono diventata un po' più parte della vedova è fantastica questa cosa molto interessante ecco allora con questa intervista direi che possiamo finire qui però avvicinati un po' al video perché facciamo vedere anche il trucco cioè ci metti un almeno un'ora secondo me al mattino per truccarti o sbaglio sì non è di certo un procedimento da prendere in dieci minuti sì è un procedimento piuttosto lungo ciò non toglie che Eva nella vita di tutti i giorni è chiaramente una donna molto più dinamica e magari non indossa il turbante tutti i giorni questo c'è da dire anche perché comunque il mondo del lavoro richiede sicuramente dinamicità velocità quindi ciò non toglie che a me piacciono a me piace Eva in tutte le sue sfaccettature mi piace quando è truccata mi piace quando è struccata mi piace quando sta male quando sta bene io ho imparato ad amarmi e questo è la cosa più importante la cosa più importante ho imparato ad amarmi grazie Eva per questo tuo intervento qui a room21.it naturalmente un artista che sta a Bassano però ha tanti legami internazionali e magari di questo ne parleremo prossimamente grazie Eva e buona giornata a tutti grazie a voi e a presto grazie a tutti